allargo questo questo impasto dopo che ha lievitato quindi raddoppiato e questo è un impasto a media idratazione al 70 per cento lo allargo delicatamente e poi avvicino e al centro porto al centro i lembi in questo modo stringo leggermente con la punta delle dita così piego ancora al centro ecco qua lo giro e arrotondo un pochino una leggera pirlatina dopodiché lo metterò sul cestino a lievitare una volta lievitato qui sono passata in circa 5 ore prima di fornare pratico il taglio incido prima incido e poi vado ad affondare un pochino di più infilo il bisturi in diagonale un pochino di piatto e allargo un pochino il taglio affondo un po' altrimenti non si apre bene vediamo un attimo ecco qua vedete come si sta allargando io l'ho appoggiato sulla carta forno in modo che poi lo faccio scivolare sulla teglia calda che ho messo già in forno ok ed ecco il nostro pane grazie grazie grazie